Ecco i risultati di Elimination Chamber, partiamo con Asuka che ha sbaragliato la concorrenza nella gabbia maledetta e dunque sfiderà Bianca Belair a Vrestelmenia per il titolo femminile di Raw. Passiamo poi a Bobby Lashley che ha sconfitto Brock Lesnar per squalifica, quando il sindaco di Suplex City per liberarsi dalla Hortlock lo ha colpito con il calcio del mulo alle parti basse. Un Brock Lesnar non contento della decisione arbitrale ha poi punito sia l'onnipotente che il direttore di gara. Edge e Beth Phoenix hanno superato Finn Balor e Rhea Ripley. Austin Theory ha vinto l'Elimination Chamber match maschile ed è rimasto campione degli Stati Uniti. Ha schienato per ultimo Seth Rollins favorito dall'interferenza ai danni dell'architetto del ring da parte di Logan Paul. E per finire Roman Reigns si è confermato campione indiscusso universale WWE battendo Sami Zayn. Ad aiutare Roman è arrivato Jimmy Uso mentre Jay si è presentato ma non ha voluto colpire Sami che poi sciaguratamente durante un'azione concitata gli è andato addosso trafiggendolo con la spia. A giochi fatti Roman ha chiesto a Jimmy di infierire su Sami ma l'intervento di Kevin Owens ha permesso a Zayn di farla franca. Owens ha pestato Jimmy e Roman e lo show si è concluso con questa piccola vittoria morale dei canadesi. Owens ha pestato Jimmy e Roman e lo show si è successo con questa piccola vittoria morale dei canadesi. Ok. 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 Ok.